Bella a tutti ragazzi e benvenuti da burrito in questo nuovissimo video E oggi siamo qui finalmente su Poppy Playtime 2 su telefono E' uscito finalmente dopo mesi che lo aspettavamo E oggi andremo a fare la prima parte dato che questo gioco è molto lungo ragazzi Però prima di cominciare vorrei salutare due iscritti che me l'hanno chiesto sotto nei commenti Quindi saluto Alessio 8bit e Friday Night Funkin Mario Madness Vi ricordo che se volete essere salutati anche voi nel prossimo video dovete scrivere la parte del video che più vi è piaciuta E poi chiedere di essere salutati Ma ora direi di cominciare subito Ok ok tocchiamo play Ok capitolo 2 volo su una ragnatela Dopo che ora che Poppy è libera la situazione sta iniziando a cambiare rapidamente Mentre tu cerchi un modo per scappare dalla fattoria Si da fattoria a fabbrica Ok tocchiamo new game Perfetto perfetto Ora ci sarà un filmato iniziale che io non schifo stavolta Sì non ce lo guardo Eccolo lì Mobmy Long Legs Ok ok Infatti ora ci sarà questo filmato dove presenterà questo giocattolo Dove è praticamente un giocattolo che si può allungare in modi lunghissimo Allungare veramente tanto Infatti l'elastica plastica Mi vorrei anche un giocattolo che si allunga così Ok Ok dai veloce veloce Ora è playtime Ora inizierà a succedere qualcosa di strano Ti ora il parco è disabitato Qui c'è un tizio che corre C'è questo nel corridoio praticamente del capitolo 1 Quello per andare al corridoio dove arrivare al magazzino Si sta formando la faccia di Poppy pian piano Eccola qui Poppy Svegliati wake up Ok finalmente partiamo Poppy playtime capitolo 2 Finalmente su telefono Veloce veloce carica Ok loading Dai che tra poco potremo entrarci Dai dai Eccoci qua Ci siamo qui su Poppy playtime 2 Siamo nella stanza di Poppy Puoi cambiare le impostazioni dal menu Vabbè quello l'ho già fatto prima Ok ragazzi Andiamo avanti Siamo ovviamente Vabbè nella stanza di Poppy Nel capitolo 1 Infatti tappato Non possiamo più andare Vabbè Possiamo aprire questa porta Ed eccoci qua Possiamo andare in questo corridoio Io ci sono Aggie Vabbè Aggie Bron Andiamo subito Ok Dobbiamo entrare in questa stanza qua Però è chiusa Quindi dobbiamo andare Prima qua Possiamo climbare adesso Così si fa tipo Ehm Ah no là Perfetto Qua ce ne aghi Ah ah E' bello Ok Apri questa porta Via Bidoni Via Ok Sì non me li fa prendere Ah ok Me li ha fatto prendere C'è subito anche da un fastidio Quindi bisogna levarvi Vabbè Prendiamo la chiave Torniamo indietro Armpichiamoci qua E Voila Perfetto Ora possiamo entrare Finalmente in questa stanza E poi c'è il trofeo Che mi prende Sì Dovete fare Sto condotto Ok Che bello Che è uscito finalmente Sto gioco da telefono Ok Ora ci sarò Ecco Poppy In realtà è buona Ci aiuta Qua ci aiuta Ciao Poppy Dai togliti Devo mettere la corrente Grazie Mamma mia ma ci ha scattato Ma ho fatto volare Grutto Perfetto Molto Fai Ma Poppy Ma io sto svolassando Sì Sto svolassando Sto svolassando Sto svolassando Sì Sto svolassando Ok Sto dicendo Che c'è il codice Detra Sto svolassando Sto svolassando Sto svolassando Sto svolassando Aspetta Miamo subito Oh E' stato Mi va a porti Sì Sì Mi so che mi vedi Vabbè Mi so che mi vedi Vai da un oculista Non c'è cosa va a nulla Oh Apriamo questo canicello Ora devo Cercare di Qui si muore Quindi Devevo cercare di Non Provo a fare una Ricorta Così Via Lascia tutta la mano Perfetto Ok Adesso Proseguiamo Voi di nuovo Poppy Ascolta Mio Che Chino Vabbè La presa mom Milonglass Sto scendo La di più potenza Via giù Per lo scivolo Mamma mia Dove sto scendendo Nell'abisto sto scendendo Di brutto Eccoci qua Allora Adesso non dobbiamo andare di qua Tirare la corrente Allora Se non sbaglio Da come ho visto In vari video su YouTube Prima dell'uscita Sono qua Questi tipo si faceva sto minima Se non ricordo male Ok Ah ho capito Così Poi così Bene Perfetto Quindi ora Si aprirà questa porta Ora Ci c'è una cosa Molto particolare Perché io metto la mano No La mommy non mi ha preso la mano rossa E niente La mano rossa non c'è più Eccola mommy Mi ha preso Poppy Molto eccitante Non è eccitante per niente Fatemi andare E se voleva darmi un codice Ora mi farà fare tipo tre giochi Per fare Un codice per essere più Vecchia Giustamente Sì La game station sta ancora funzionando Come i vecchi tempi Se vinco tutti i tre giochi Mi danno Il codice del treno Mi ha perduto questa idea Poppy Ok 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 Si Obbedisce alle regole Se no Ti mangio dentro Mamma mia Che brutta cosa No adesso posso andare Ok Ok Possiamo andare Cos'è Un brucco Un brucco morto Va bene P.J. è morto Ok Ed eccoci qua ragazzi Siamo arrivati nella parte principale Che ho capito La train station È un brucco Un brucco Un brucco Un brucco Un brucco Un brucco Ok Che è l'assurdo Sarela Perché il cartonato di chi si messe è tutto nero Vabbè Lasciamo stare Ok Che è l'aria Per aprire ci serve la mano verde Molto castremo Sì, tre super giochi, come sono finito, vedo qua. Sì, seguiamo a mamma, per le stelle, e iniziamo a giocare musical memory. Ecco, in questo musical memory, scendiamo su questo tunnel, e siamo arrivati in una stanza, nella stanza fabbricazione mani. Ora devo fare una mano verde, perché non avevo mai capito questa porta qui. Adesso metterà un po' sempre il tubo, mentre c'è tutto fuori. Ok. Ora mi fabbricano, mi creano le mani. Eccole qui le nostre mani, che ci hanno creato. Dai, veloce, veloce a portarle. Ecco qua, mani grigie. Aspetto è solo che non ho vernice, quindi non posso fare le mani verdi. Con le mani in bianche io non ci faccio nulla, quindi devo metterci la vernice. Andiamo subito. Ti metto di qua. Ok. Ti metto di qua. Perfetto. Se qui ci va adesso ci arriva la vernice. No, e son caduto. Son caduto. E facciamolo. Eccola lì la vernice che sta arrivando, riesco a prenderla anche da qua. Si, ce l'abbiamo. Ok. Dove c'è un altro, un po' fa che mi piglio. Ok, premiamo. Elitro. Ok. Eccole qui le nostre mani. con mani verdi che si stanno fabbricando. Finalmente ce l'abbiamo. Ok. Ora dammi la mano verde. Ed eccola qui abbiamo una manina verde. Finalmente ce l'abbiamo in mano. Non è un vero senso. Ok, da qua. Perfetto. Così posso andare da questa parte. Eccoci qua, siamo arrivati nel musical memory. Ok. Benvenuto nel musical memory. Questo ci sarà questo tutorial che spiegherà come funziona il musical memory. Mi serve stimolare le parti del cervello. Ok. Seguire le sequenze di colori che mi vengono sullo schermo e mi riseguirle io. Con questi cosi qua. Se farò la combinazione corretta Bonzo se ne torna indietro. Se la faccio incorretta Bonzo arriverà sempre di più fino a prendermi. E se Bonzo mi raggiunge schiatto male. Perfetto. E' quello lì Bonzo. Lei me li vuole dare su un muso i piatti mi sa. Ok. Il gioco iniziano a diventare più difficili. Le combinazioni più lunghe. Va bene. Ok. Eccola lì Mommy. Non vedeva questo posto da anni Non può capire quanto può essere Scitato Bonzo in questo momento Vabbè dai però parti Eccolo Bonzo No Bonzo No vai via Lo sonno di ste mani Lo sonno di ste mani verde Ok ora iniziamo subito Allora Rosso Ok rosso 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 Perfetto Red Sempre rosso tre volte rosso Red 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 e green Red 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 Green e yellow Il primo round l'abbiamo fatto Green Green e blue Green e blue Green e green Perfetto Green Blue Green e green Green Blue Green Green e yellow Peer eh February Blue Violet Perfetto Violet 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 white Violet violet white Violet violet white e arancione Perfetto Viola, viola Bianco, arancione E blu Violet, violet No, ho sbagliato Violet, violet Orange E blu era Mi sa che muoio Violet, violet Violet, violet Riproviamo allora Orange Orange, orange Orange, orange Violet Orange, orange Violet E red Ok Orange Orange Violet Red E white Ok Blu Ok Blu Ok Blu 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 j e il cuore dove ecco qua blu ecco blu j cuore e bianco colonnate ne su pure il pigrego blu j or mu ah devo muovere blu j orto si perfetto si blu j cuore bianco e rosso ok ok il gioco si rompe figurati se riesco a fare tutte ste cose il gioco di neve dai no il massacro questo è il massacro adesso premere questo preso ho praticamente sfasciato tutto ok ok mi ha deciso di darmi finalmente una parte del codice finalmente dai mammy sgancia preso atti ora nell'inventare una parte del codice mamma mi sperava che il gioco ti fosse un po' più a lungo no no è tranquillo se posso portarlo gioco e si abbassa questa cosa e devo andare di qua andiamo andiamo e arriviamo ecco quanto si sentono umori di momy che stanno ammazzando bonzo eccoci che siamo arrivati al magazzino ci sono anche giocattoli rifiutati tipo questo oh ho venuto in forno questo non era kick me vabbè vabbè perchè sto bronne sto bronne non avere le ketchup inferno perchè è pulito vabbè no sono caduto sono caduto devo salire di qua ma perchè cado aspetta non devo andare subito devo portare questo coso qua così si vorrei fare un piccolo taglio dove porterò questo coso qua altro non è venuto troppo tempo ok ragazzi qui l'ho portato perfetto e ora devo prendere l'energia da qua e metterla qua così su questo bromo e una delle scatole da qua ecco sono finito di me ora posso andare perfetto dai sali sali oook stiamo uscendo l'arcene ora ora qua c'è un altro puzzle ora così 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 no 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 aspetta no vorrei arrivare così 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 e così perfetto però così sali perfetto saliamo e andiamoci in via torniamo nella train station finalmente poi tanto il casco non è capitolo uno non manca mai saliamo le scale togliamo facciamo una sbutta serie togliamola subito perfetto siamo tornati nel punto di partenza siamo partiti quindi ragazzi direi che per questa prima parte è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un like fatemi sapere cosa ne pensate condividete fatemi sapere se il gioco vi piace e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao